guardate questa cazzo enorme guardala lì io c'ho due minuti di video cosa sto facendo non posso portare di vita si ma sei stancata va che arriva va che arriva che bestia guardala adesso ho una valla spazza pronto vai dimmi lascia 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 andare si sono qua sta tirando su una carpa da 3 minuti 4 grossissima fai Marco ti prendi una carpa gigante dai 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 non ci sta nel guadino oh dimmi a che torna eh eh sì eh non lo so quando fa buio stasera fa buio presto poi sono lì magari che arrivi ma troppo ti prego dai 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 non ci sta si chiuda il guadino si chiuda il guadino si sta guardando non ci sta il guadino prendila con le mani si è ancora attaccata si riprova pronto? cos'è che è? prenda Marco dai si ma pian pianino si sta stancando poco a poco sta combattendo dai va bene aspetta ciao ciao aspetta aspetta non prendere il filo in mano che si spacca eh si è fatta su col filo adesso hai ripreso di energia eh ci vuole un guadino più grosso ci vuole chi se lo sarebbe mai aspettato ma aiutandoci col guadino e con le mani non ce la fai aspetta che prendo il guadino ti pensai che devo interrompere il... interrompi dai l'abbiamo già visto che bella non c'è non c'è non c'è